che Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Oggi vi presentiamo l'ufficio comunicazione di App Industria con Fimi Mantova. Uno dei due volti, è molto conosciuto, è anche un volto di Telemantova, il nostro Giacomo Cecchin. Ben ritrovato. Grazie Angela. Affiancato e coadiuvato da Marina Storti. Benvenuta Marina. Grazie mille. Allora lo diciamo subito per Marina, la prima intervista televisiva. Esatto. Partiamo da te che così rompi il ghiaccio. Sì. Di che cosa ti occupi nello specifico in App Industria? Io sono in App Industria da circa due anni e prevalentemente però nell'ufficio comunicazione insieme a Giacomo Cecchin. Questo lavoro mi sta permettendo di sviluppare il mio interesse nell'ambito comunicativo ma soprattutto digitale ed infatti gestisco i profili social dell'associazione tra cui i profili LinkedIn, il profilo Facebook e anche il profilo YouTube. Il profilo LinkedIn è importantissimo al giorno d'oggi? Sì, molto attivo infatti. Bisogna sempre aggiornarlo, essere presenti. A livello professionale forse è il social più performante diciamo. Sì. Giacomo, ti conosciamo benissimo però ricordiamo i nostri telespettatori anche il tuo ruolo importante all'interno di App Industria. Sì, io seguo la comunicazione, devo dire che naturalmente la mia storia rispetto a quella di Marina è una storia di più lunga data all'interno dell'associazione però siamo stati molto contenti di essere riusciti appunto a costruire un ufficio che non sia più solo una persona ma siano due persone con Marina che segue i social e che quindi mette anche quello che è il dinamismo, l'entusiasmo appunto di una persona che sta costruendosi un percorso professionale con noi e poi dall'altra parte forse quello che è mancato a Marina è il fatto di essere buttati all'interno di una struttura che non avesse un ufficio comunicazione, nel senso che quando io sono arrivato alla fine mi sono occupato un po' di tutto e poi ho sviluppato quello che era magari il talento di questo racconto, racconto delle aziende, racconto appunto dell'associazione ed è una cosa sempre più importante perché come dicevi tu per esempio su LinkedIn poi alla fine non pubblichi numeri, non pubblichi magari solo delle informazioni ma pubblichi delle storie e racconti delle storie e questo è fondamentale e quindi adesso quando mi chiedono in effetti cosa faccio, cosa mi piace fare, dico racconto storie perché così metto insieme un po' tutto quello che faccio, sia dalla parte quella che gli imprenditori chiamano ludica e quindi appunto di guida turistica o di bantola segreta e dall'altra parte però racconto storie anche all'interno dell'associazione, quindi racconto storie di impresa. E quindi questa è una duplice visione, social, digitale da una parte e il racconto appunto delle imprese del territorio ma non è tutto perché come ufficio comunicazione c'è anche altro giusto che seguite? Sì, allora in realtà l'ufficio comunicazione nasce proprio come un ufficio trasversale, per cui mentre rispetto ad alcune associazioni quello che viene chiamato ufficio comunicazione è un ufficio dove ci sono dei grafici, dove c'è magari chi segue i rapporti con i giornali e quindi è una comunicazione molto specifica, molto focalizzata. Dal punto di vista nostro invece la comunicazione tiene insieme come un punto di intersezione un po' tutti gli uffici e quindi questa orizzontalità in una società che diventa invece sempre più verticale e specializzata è importante perché consente appunto di raccontare l'associazione in tutti i suoi aspetti quindi andiamo dalla stampa, dagli eventi magari speciali, dalle locandine, dalla parte social che segue appunto Marina ma fino ad arrivare anche semplicemente a raccontare l'imprenditore o aiutarlo quando vengono per esempio sei a casa a tirare fuori quelli che sono le parti importanti di un'azienda perché loro altrimenti fanno fatica perché danno tutto per scontato e invece un'azienda non è mai scontata e hanno talmente tante cose da raccontare che quando gli riesce a far capire qual è l'approccio giusto devono selezionare. E' proprio così, in approfitto, permettimi un ringraziamento perché dietro alle tante aziende che vi presentiamo qui a sei a casa c'è proprio il lavoro di Giacomo Cecchin e Appindustria quindi grazie davvero per la collaborazione. Allora Marina, Appindustria e Appi Servizi Società Benefit hanno avviato un progetto dal titolo Appintour di che cosa si tratta? Allora, il progetto Appintour nasce circa un anno fa con l'obiettivo di avvicinare gli imprenditori al territorio mantovano e questo viene reso possibile grazie all'organizzazione di visite all'interno della città di Mantua, di Palazzo Ducale e anche di Palazzo Tè. Però se pensiamo ad Appintour pensiamo anche alle visite aziendali che noi organizziamo per gli imprenditori all'interno di aziende associate e non associate e questo permette agli imprenditori non solo di conoscersi tra loro ma soprattutto di conoscere la storia delle aziende visitate e anche la produzione di queste aziende e questo dà sempre origine a un momento di confronto, di riflessione. Non per ultimo ma non meno importante, tengo sempre a considerare anche come Appintour, le nostre visite aziendali, quindi l'associazione che va nelle aziende, in questo caso anche noi visitiamo la produzione ma soprattutto ascoltiamo le voci dei dipendenti e degli imprenditori stessi e soprattutto facciamo la foto ricordo perché quale è il miglior modo per concludere una visita aziendale soprattutto perché secondo noi la fotografia è il miglior modo per proprio segnalare e simboleggiare questa visita e poi pubblichiamo ovviamente sui nostri canali social. Un'attività efficace questa che avete ripreso in pieno post pandemia? Sì, soprattutto. Sì, in effetti devo dire che poi Marina è arrivata nel momento della pandemia e quindi abbiamo cominciato a lavorare su quella che noi chiamiamo familiarmente APTV e quindi tutto il canale YouTube, però poi siamo andati sul territorio e queste visite aziendali di cui parla Marina secondo me sono interessanti proprio perché alla fine entri dentro l'azienda e la racconti come in un film, come se fossi nel backstage, nel dietro le quinte e uno dei progetti che stiamo ragionando insieme di fare è quello di sfruttare queste foto che diceva Marina e quindi di tirare fuori le cartoline. Le cartoline non si spediscono più, le cartoline intendo proprio quelle che spedisci quando vai in vacanza. Di solito le spedisci perché stai bene in un posto e quindi dici saluti, che bello, mi sarebbe piaciuto che fossi qui anche tu e allora noi faremo questo, andremo nelle aziende e spediremo cartoline in associazione per far vedere che ogni azienda è come se fosse un patrimonio da tutelare e poi che cosa facciamo? Invece prepareremo una serie di cartoline in associazione che diventano l'ufficio comunicazione, l'ufficio sindacale, l'ufficio economico e quindi chi viene a trovarci potrà mandare all'interno della propria azienda una cartolina da un bel posto dove sia divertito che è appunto App Industria con Fimi Mantua che diventa una sorta di ulteriore, diciamo così, punto culturale insieme a Palazzo Tè, Palazzo Ducale, a tutto quello che c'è, a Telemantua, a quello che vogliamo metterci dentro. Marina, tre parole chiave per descrivere l'associazione. Allora direi creatività perché secondo me è la base di ogni iniziativa che appunto viene realizzata ma soprattutto creata dall'associazione Unione perché alla fine tutti questi progetti ed eventi che effettivamente realizziamo sono realizzati a loro volta da un grande lavoro di team, di gruppo e organizzazione perché ritengo che sia la base di ogni progetto, di ogni evento che effettivamente poi noi realizziamo. Per te Giacomo? Allora io rubo a Marina la creatività perché secondo me è una cosa che ci accomuna, le lascio l'organizzazione perché io ho probabilmente degli altri talenti e aggiungo una parola che è curiosità perché secondo me occorre essere curiosi, se non sei curioso non riesci nemmeno a raccontare le aziende e poi dall'altro potremmo dire che dal mio punto di vista è disordine perché per me nel disordine trovi delle cose che gli altri non vedono e poi alla fine attraverso l'organizzazione, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra riesci a raccontare davvero una storia che coinvolga perché secondo me poi devi entusiasmare le persone altrimenti fai fatica a far capire quanto possa essere divertente, interessante, stimolante raccontare le aziende, lavorare insieme a loro e lavorare in un'associazione come la nostra. Prossimi progetti e attività previste? Allora stiamo lavorando sull'evento estivo del gruppo Giovani Imprenditori, stiamo lavorando su alcuni viaggi, quelli che noi chiamiamo gite all'interno per esempio di realtà che possono essere aziende d'eccellenza o anche semplicemente altre città e poi devo dire che stiamo anche lavorando su un magazine che progettiamo per mettere insieme economia, cultura, territorio e probabilmente quindi portare all'interno dell'azienda tutta quella che è la nostra voglia di raccontare. Ebbene, quindi c'è tanta carne al fuoco Marina. Esatto, tutto questo poi tra l'altro è in linea con il fatto che Appi Servizi è una società benefit e quindi proprio cerchiamo di valorizzare il territorio e unire soprattutto imprenditori e il territorio mantovano, questo sicuramente. E torneremo a parlare di società benefit proprio dopo la pubblicità, quindi ringrazio moltissimo Giacomo Cecchine e Marina Storti dell'Ufficio Comunicazione di Appi Industria con Fimi Mantua per essere stati con noi. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Noi ci fermiamo ma solo per qualche minuto di pubblicità, tra poco.